questa questa non non no no questa questa onestamente no questa non me l'aspettavo questa no allora notizia data nella notte proprio quando poca gente poteva non ci sarà la demo di fifa 21 primo anno dopo quanti anni so non me lo ricordo neanche cioè non me non mi ricordo l'ultima volta cui si è verificato la situazione di questo tipo non rilasceremo la demo di fifa 21 punto al contrario abbiamo deciso di concentrare il tempo del nostro team di sviluppo sulla preparazione della migliore esperienza possibile per console di generazione attuale prossima però però non vediamo l'ora che gli abbonati dell'iae play ovvero del vecchio e access si gettino nel vivo dell'azione a 10 giorni dal lancio che è previsto il 9 ottobre perché vi ricordate che quest'anno come poi tutti gli anni passati il gioco sarà disponibile in prova anticipata per 10 ore attraverso l'iae play a partire dal primo ottobre quindi circa 10 giorni prima del lancio e circa 10 giorni da oggi come 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 la commenti una cosa come questa non la commenti verrebbe da dire ma la commentiamo lo stesso allora è il primo anno in cui il tonicast decide di non rilasciare una demo del proprio calcistico perché perché si sentono troppo sicuri della situazione e quindi non hanno allora partiamo da un doveroso presupposto questa frase qui non ha alcun senso perché allora io io capisco che loro siano convinti di rivolgersi a una totalità di persone che non hanno idea di che cosa sia un processo di sviluppo me ne rendo conto però non non tutti sono totalmente al di fuori di certe dinamiche produttive e questa frase qui non ha alcun senso non ha alcun senso come tonicast decide l'ultimo mese di non fare una demo cioè non è che c'è questa concezione un po' errata che la demo sia un qualcosa che va costruito da zero e no no non è assolutamente così cioè non è che quando un'azienda decide di fare una demo prende due progetti da zero e sviluppa da una parte la build quella che andrà nel gioco finale dall'altra parte la demo no la demo è una porzione del gioco finale tirata fuori dal gioco finale ok non è non ci non è richiesto chissà quale sforzo produttivo che porta via chissà quanto tempo ai poveri team di sviluppo che sono impegnati nelle loro cose no non è così non è minimamente così è un lavoro che richiede del tempo perché è ovvio che richiede del tempo per essere confezionato ma cioè alludere al fatto che creare una demo avrebbe implicitamente portato via un sacco di tempo allo sviluppo delle versioni current next gen ragazzi cioè a roma si dice io non ho la leno al naso e la sveglia al collo ok e in questo caso ahimè mi viene da rispondere esattamente con questa frase ecco fare una demo avrebbe richiesto un tempo estremamente limitato la decisione di non farla non è minimamente legata a questioni e ragioni di sviluppo produttivo della current next gen ragazzi io mi rifiuto di essere trattato come un povero imbecille e quindi non accetto una spiegazione di questo avrei preferito a oh non ce va l'avrei rispettato non ci va ma queste spiegazioni come il canonico il gioco è stato rinviato perché ci siamo resi conto che vogliamo rifinire cioè ste frasi fatte che ce le no perché è offensivo nei confronti di un consumatore che te dà i sordi ok è offensivo io reputo questo tweet offensivo nei confronti della mia intelligenza non si può accettare un tweet del genere allora io ho a questo punto mi spiace dirlo ma ho una mia visione abbastanza apocalittica della cosa cioè il tonicast quest'anno ha lavorato molto bene in termini di comunicazione preventiva in termini di annunci preventivi cioè quest'anno fifa lo hanno venduto con largo anticipo anche a chi non gioca online perché il lavoro fatto sulla carriera io per primo l'ho sottolineato esaltato e in qualche modo mi ha creato anche un certo hype io sono contento quest'anno che fifa 21 abbia le caratteristiche che ha perché io sono stra felice di poter fare diversi contenuti basali sulla serie sulla carriera hanno fatto sulla carta una bellissima carriera e quindi io sarò contentissimo di lavorarci sopra al tempo stesso però al tempo stesso però questo tipo di dichiarazione mi fa temere che in termini di gameplay ci sia qualcosa che non va perché se tu hai decisioni dal lancio o fai una scelta del genere qual è il problema? perché in un'annata come questa cross generazionale tu mi privi di una demo che ha un'importanza incalcolabile perché vuoi tirarmi dentro all'IA play? quale altra spiegazione c'è? che poi anche lì problemi di sviluppo ma che problemi ci possono essere? cioè a 10 giorni dal lancio io ho letto tanta gente che appunto aveva quest'idea del cosa vorranno nascondere un po' come istintivamente è venuto a me ma 10 giorni dal lancio ragazzi non bastano per mettere a posto qualsiasi cosa a 10 giorni non bastano cioè questo tipo di dichiarazione non ha un senso logico se non io volevo arrivare qua legandosi all'ultima frase del tweet non vediamo l'ora che gli abbonati all'IA play si lancino nel vivo dell'azione 10 giorni dal lancio cioè a 10 giorni da oggi quindi appunto il primo ottobre sembra sembra l'ennesima manovra per attirare gente verso l'IA play che adesso fa riva con game pass allora capisco che il marketing possa aver detto ragazzi ma se invece di fare una demo quest'anno non proviamo a tirare tutti dentro l'IA play benissimo ma non mi raccontate fandonie del tipo cioè bisogna di concentrare lo sviluppo del team di sviluppo sui prodotti cioè dai ragazzi dai per favore cioè quest'anno abbiamo cioè io quello che dico è provate a immaginarvi il tweet così quest'anno non rilasceremo la demo di VEA21 ci aspettiamo con curiosità con trepidazione che i membri dell'IA play lo provino fra dieci giorni saluti e baci non suonava un po' meglio non suonava un po' meglio senza metterci questo paragrafetto del tutto superfluo e anche un po' offensivo in mezzo suonava meglio era più diretto ti faceva comunque capire la questione in maniera estremamente chiara e io l'avrei accolto con molta più serenità e comprensione perché ho detto ok loro hanno appena siglato una partnership con Xbox per inserire l'IA play dentro all'Xbox Game Pass vogliono attirare ancora più gente lì dentro come parte dell'accordo magari era previsto magari come parte dell'accordo va bene ci sta ma non mi pigliare per ecco perché quello un po' mi dà fastidio un pochino sì quindi ragazzi questo questo è siamo privi di demo ma questo non ci fermerà perché noi lo proveremo senza comprare il gioco il primo e poi appunto da quando dal 9 ottobre partiremo con dei contenuti io ragazzi come ogni anno come ogni anno vi invito caldamente mai come quest'anno a provare l'IA play ma non perché io abbia una finalità particolare perché come ben sapete io non ho rapporti con Electronic Arts non li ho da quando sono su YouTube ho mai avuti quindi è un è un come posso dire un richiamo al vostro portafoglio anziché spendere 70 euro al lancio per un gioco che potrebbe non piacervi spendetene 3 quanto costa adesso l'IA play 3,99 non lo so costa poco rispetto al gioco costa poco investite quei 3-4 euro su una prova di 10 ore che vi dirà tanto sul prodotto dove non avrete limiti di contenuto sull'esperienza di FIFA ma solamente limiti temporali perché ha un tempo limitato di 10 ore provatelo approfonditelo il più possibile valutatelo e poi decidete se comprarlo o meno ma non sottovalutate uno strumento come questo per evitare eventualmente un acquisto che potrebbe non piacervi o per essere ancora più convinti di un acquisto che vorrete fare alla fine della fiera 3 euro non vi cambiano la vita 70 si per cui meglio spenderne 73 piuttosto ed essere contenti piuttosto che spendere 70 ed essere scontenti ok specialmente in un'annata in cui c'è persa 30 euro che potrebbe sicuramente rappresentare un'alternativa quello dei vostri 3 euro vi dicessero guarda non ci piace ecco per cui ragazzi io per adesso vi saluto fatemi sapere come avete accolto l'audizia siete contenti siete scontenti quale credete che sia la causa siete d'accordo con me sul discorso sarà una questione di iaccess di iplay oppure c'è di più fermo restando che ripeto ragazzi se ci fosse realmente di più se ci fosse realmente da parte di electronic cards la necessità di dover lavorare ancora le versioni current next gen quindi non possiamo distrarci occupandoci della demo l'avrebbero rinviato ok l'avrebbero rinviato se quello fosse il motivo perché una settimana non basta fare niente neanche neanche la copertina stavolta no ma quella copertina si basta una settimana per farlo beh sa che basta non è che un par d'ore anzi forse una decina di minuti sono anche avanza pure il tempo del caffè vabbè comunque ragazzi fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima